Pronti a scoprire i segreti dell'ellisse? E allora partiamo dalla sua definizione come luogo geometrico e quindi come insieme dei punti del piano per cui è costante la somma delle distanze da due punti fissi detti fuochi. Prima di considerare tuttavia le proprietà dell'ellisse legata alla sua equazione in un riferimento cartesiano, proviamo a dimostrare che i punti per cui risulta costante la somma delle distanze da due punti fissi detti fuochi che ho già tracciato in figura e che ho chiamato rispettivamente f1 ed f2 si distribuiscono nella forma definita. Per dimostrarlo utilizzeremo una costruzione geometrica realizzata grazie ad alcune funzioni del software GeoGebra e come per il video della parabola che ho già caricato sul mio canale youtube che potete visualizzare nel link che apparirà tra un attimo qui in alto ho già preparato la costruzione per mostrarvela con modalità un po' più veloci. Siete pronti? Innanzitutto partiamo considerando due punti f1 ed f2 scelti a caso e che rappresenteranno i due fuochi dell'ellisse che andremo a tracciare e consideriamo quindi la circonferenza con centro f1 e con raggio definito dal segmento f1a. Consideriamo a questo punto anche il segmento f2a e il suo asse, ossia la retta passante per il punto medio del segmento af2 e perpendicolare al segmento stesso. Sia p invece il punto di intersezione tra l'asse considerato e il raggio af1 della circonferenza. Osserviamo che muovendo il punto a varia anche la posizione di p. A questo punto vogliamo dimostrare che il segmento pf2 risulta congruente al segmento p.a. Da tale proprietà riusciremo a dedurre che in ogni posizione occupata da p al variare della posizione di a sulla circonferenza considerata la somma delle misure dei segmenti pf1 e pf2 risulta costante e che quindi p rappresenta un punto generico dell'ellisse con fuochi f1 ed f2. Prima di per dimostrare che il segmento p.a. è congruente al segmento pf2 utilizziamo il primo criterio di congruenza applicato ai triangoli pma e pf2m in effetti. Osserviamo che per costruzione il segmento ma è congruente al segmento mf2 dato che m è il punto medio del segmento af2 mentre il segmento mp è un lato in comune ai due triangoli considerati. Visto che per costruzione gli angoli f2 mp pma sono entrambi retti osserviamo che i due triangoli considerati sono caratterizzati rispettivamente da due coppie di lati e dai due angoli tra esse compresi rispettivamente congruenti da qui deduciamo per il primo criterio di congruenza dei triangoli la congruenza dei triangoli considerati e per questo motivo i due lati corrispondenti p a e pf2 risulteranno congruenti. A questo punto osserviamo che la somma dei segmenti pf1 e pf2 risulta per quanto dimostrato poco fa congruente alla somma dei segmenti pf1 e p a e questo vale per ogni posizione assunta da p rispetto alla variazione di a. Osservando inoltre che la somma dei segmenti pf1 e p a rappresenta il raggio della circonferenza che è costante deduciamo che anche la somma tra le misure dei segmenti pf1 e pf2 risulterà costante per ogni posizione assunta da p rispetto alla variazione del punto a sulla circonferenza. infatti la posizione di a vincolata alla circonferenza garantisce che in ogni configurazione possibile del punto p la somma dei segmenti pf1 e pf2 risulta pari al raggio della circonferenza e sempre alla stessa quantità numerica. Possiamo a questo punto concludere che le posizioni occupate da p durante la rotazione del punto a intorno a f1 definiscono un'ellisse e quindi considerando come nel caso del video della parabola la funzione di geogebra mostra traccia otterremo dal movimento di a sulla circonferenza considerata l'ellisse definita quindi dalla seguente forma che risulta coerente a quella mostrata all'inizio del video. Visto che bella? Riguardo alle caratteristiche geometriche e alle simmetrie relative all'ellisse possiamo considerare un punto particolare chiamato centro dell'ellisse e che è definito come il punto medio tra i due fuochi. osserviamo inoltre che dal centro dell'ellisse che abbiamo indicato con il punto c possiamo tracciare due assi di simmetria il primo dei quali contiene il centro e i due fuochi mentre il secondo è definito da una retta passante per il punto c e perpendicolare al primo asse di simmetria tracciato. dall'intersezione delle due rette considerate con l'ellisse otteniamo quattro punti che vengono chiamati vertici dell'ellisse. Inoltre il segmento con estremi a1 e a2 viene anche chiamato asse focale perché contiene due fuochi. Tale asse inoltre è caratterizzato da una lunghezza maggiore rispetto al segmento di estremi b1 e b2 ed è per questo motivo che l'asse focale viene anche chiamato asse maggiore mentre l'altro viene chiamato asse minore dell'ellisse. Infine possiamo osservare un'ultima caratteristica dell'ellisse che viene chiamata eccenticità e che è definita come il rapporto tra la distanza del centro rispetto a uno qualsiasi dei due fuochi e la lunghezza del semiasse maggiore che abbiamo riprodotto in basso per favorire maggiormente la comprensione di quanto detto con una maggiore pulizia grafica. Osserveremo a breve attraverso lo studio delle equazioni di alcune particolari ellissi che il valore dell'eccenticità definisce le caratteristiche dello schiacciamento tra virgolette della curva considerata e lo faremo attraverso alcuni particolari esempi. Passiamo a questo punto all'analisi delle proprietà di un'ellisse tracciata in un riferimento cartesiano. Quella che vedete in questa posizione della schermata è l'equazione generica dell'ellisse concentro nell'origine. Non dimostreremo attraverso passaggi formali che tale equazione rappresenta in effetti un'ellisse rimandando la trattazione ad alte sedi. Tuttavia cercheremo di capire come possiamo rappresentare un'ellisse a partire da questa equazione e come varia la forma dell'ellisse rappresentata rispetto alla variazione dei parametri a e b che rappresentano rispettivamente le misure in valore assoluto dei due semiassi dell'ellisse. Premendo il tasto invio come nel caso della parabola osserviamo che il software GeoGebra produce due slider che consentono di variare all'interno dell'equazione generica dell'ellisse considerata i valori dei parametri a e b. Prima di effettuare qualche simulazione per capire come variano le caratteristiche geometriche dell'ellisse visualizzata rispetto ai valori dei due parametri considerati osserviamo che i due assi dell'ellisse giacono rispettivamente sui due assi cartesiani. In particolare per l'ellisse che vedete visualizzata nello schermo sull'asse LX giace l'asse maggiore mentre sull'asse LY giace l'asse minore. Variando tuttavia i valori di A e B osserviamo che possiamo ricavare le dell'ellisse il cui asse maggiore giace sull'asse LY mentre l'asse minore a questo punto giace sull'asse LX. Questo perché i parametri A e B rappresentano rispettivamente e ordinatamente le misure in valore assoluto del semiasse che giace sull'asse LX e del semiasse che giace sull'asse LY. Quindi nel caso in cui il valore del parametro A risulti maggiore rispetto al valore del parametro B l'asse maggiore dell'ellisse si troverà sull'asse delle X. Viceversa l'asse maggiore sarà definito sull'asse LY nel caso in cui il valore di B risulterà maggiore rispetto a quello del parametro A. Osserviamo inoltre che i quattro vettici dell'ellisse sono definiti dall'intersezione dell'ellisse con i due assi cartesiani e che i due fuochi giaciono sull'asse LY o sull'asse LX a seconda della variazione della posizione dell'asse focale che corrisponde all'asse maggiore definito dei valori dei parametri A e B. Inoltre è possibile visualizzare le posizioni occupate dai due fuochi calcolando il valore di un parametro solitamente indicato con la lettera C e che viene definito come la radice quadrata della differenza tra il quadrato del semiasse maggiore e il quadrato del semiasse minore. Considerando i valori scelti attraverso i due slider per la nostra ellisse in questo caso C risulterà uguale a 1,9. A partire da questo parametro è possibile definire le coordinate dei fuochi come segue. Anche in questo caso metteremo la dimostrazione di quanto introdotto limitandoci a osservare che in effetti il punto di coordinate 0C ossia 0,1,9 è visualizzato correttamente sul vostro schermo infatti è nei pressi tra virgolette del punto di ordinata 2 così come è visualizzato correttamente il secondo fuoco di coordinate 0,1,9. la distanza tra i due fuochi può variare a seconda della variazione dei parametri a e b provando ad esempio ad aumentare attraverso il secondo slider il valore di b osserviamo che l'ellisse risulta più schiacciata per valori maggiori di b mentre risulta meno schiacciata per valori minori di b rispetto al valore fisso scelto per il parametro a. Un caso particolare si ottiene quando i valori di a e b coincidono infatti in tal caso dell'ellisse tende a diventare una circonferenza il cui centro è definito dalla sovrapposizione dei due fuochi. Concludiamo la sezione dedicata all'equazione dell'ellisse ritornando al concetto di eccentricità introdotto precedentemente. Non preoccupatevi sarà più semplice di quanto possiate pensare. L'eccentricità che abbiamo indicato con il parametro e è definita come abbiamo già accennato come il rapporto tra la distanza dei due fuochi dall'origine che è definito dal parametro c e in effetti lo possiamo dedurre osservando che l'ordinata del punto f1 è pari a c e quindi la distanza del fuoco f1 all'origine è proprio pari a tale valore così come è pari a c la distanza del fuoco f2 rispetto all'origine ossia al centro della nostra ellisse. Nel nostro caso il valore 0,9 è definito rispetto ai valori di b che abbiamo fissato con il secondo slider mostrato da GeoGebra e di c che abbiamo calcolato successivamente. Abbiamo già sottolineato che l'eccentricità di un'ellisse definisce in qualche modo lo schiacciamento tra virgolette della curva considerata e in effetti diminuendo il valore di b passiamo a 0,8 quindi per ellissi tra virgolette meno schiacciate otteniamo valori di eccentricità minori come possiamo osservare diminuendo ancora il valore del parametro b. inoltre nel caso particolare in cui i parametri a e b coincidono e per cui l'ellisse diventa una circonferenza abbiamo il minimo valore possibile ammesso per l'eccentricità che è 0. Inoltre il valore dell'eccentricità cresce e risulterà in ogni caso minore di 1 in quanto la distanza dei fuochi dal centro dell'ellisse non potrà mai equiparare la misura del semiasse maggiore avremmo potuto effettuare considerazioni analoghe sulle proprietà dell'ellisse considerando il caso in cui l'asse maggiore giace sull'asse lx e attraverso opportuni cambi nel calcolo del parametro c nella definizione dei due fuochi e nel calcolo dell'eccentricità che affidiamo al vostro studio autonomo o attraverso approfondimenti che potete richiedere attraverso dei commenti a questo video o contattandomi attraverso le piattaforme di un quarto d'ora con il troppo ma quante proprietà per l'ellisse e considerate che la possiamo analizzare anche in alcune applicazioni nel campo della fisica una in particolare riguarda le orbite percorse dei pianeti del sistema solare durante il loro moto di rivoluzione intorno al sole grazie a questo schema che ho realizzato con sortio geogebra ho realizzato in maniera molto approssimativa le orbite ellittiche percorse dagli otto pianeti del sistema solare non va considerato questo schema in merito alle proporzioni da tanti punti di vista incluso in particolare le dimensioni dei pianeti infatti i quattro pianeti che sono più distanti rispetto al sole ossia giove saturno l'anno e nettuno hanno dimensioni maggiori rispetto a quelle dei pianeti della prima fascia cioè quelli più vicini al sole che sono mercurio venere la terra e marte quello che ho cercato di mostrare è che effettivamente le ellisse sono forme che in realtà non sono così distanti dalla nostra natura e possono essere approfondite attraverso le leggi di Keplero anche grazie a proprietà come le eccendicità che varia a seconda delle orbite planetarie per questo motivo vi consiglio di approfondire il tema in un video tematico presente nel mio canale youtube il cui ring è qui in alto grazie per l'attenzione e alla prossima conica